Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in a 1 in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e PVA 111, tutto verso Firenze, e in Fipili, tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso il Capoluogo. Per il traffico urbano del Capoluogo ricordiamo che è in corso in questi giorni il pre-esercizio della T1 della tramvia Villa Costanza-Careggi. Ad Allamanni Stazione tutti i passeggeri devono scendere, mentre il tram prosegue regolarmente fino a Careggi. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Castiglion Fiorentino, Montecatini Centro, Pescia e Sesto Fiorentino, quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!